Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Fino a domenica la Liguria sarà esposta a infiltrazioni atlantiche in quota, seppur in un contesto relativamente asciutto per effetto dell'intensa ventilazione settentrionale. Il dettaglio oggi, venerdì 18 gennaio, cielo inizialmente terzo, grazie all'afflusso di aria asciutta da nord, nel corso del pomeriggio transito di velature da Ponente verso Levante. Nell'interno progressivo aumento della nuvolosità nei bassi strati dal tardo pomeriggio per il sopraggiungere di aria più umida dal nord-est. 20 settentrionali forti di burrasca sul settore centrale, con raffiche fino a 70-80 km orari sui rilievi e le zone esposte costiere. Mare in prevalenza mosso, localmente molto mosso a Ponente, stirato sulla parte centrale della regione. Temperature massime stazionarie, lungo la costa intorno a 13-14 gradi, nelle zone interne tra 8 e 12 gradi. Domani, sabato 19 gennaio, al mattino passaggi di nubi strati, forme medio-alte, sulla regione, addensamenti nei bassi strati sui versanti padani, con possibili sporadiche spolverate nevose. Al pomeriggio variabile, con media nuvolosità in transito, temporanee schiarite, qualche addensamento costiero da segnalare un deciso calo termico. 20 settentrionali, moderati e levante, forti sul centro Ponente, fino al primo pomeriggio in progressiva attenuazione. Mare a Ponente in calo, da localmente molto mosso a mosso, a Levante in calo da mosso a poco mosso. Temperature minime in diminuzione, lungo la costa intorno 5-6 gradi, nell'interno tra meno 1 e 0 gradi. Massime in diminuzione, lungo la costa tra 10 e 12 gradi, nelle zone interne tra 4 e 8 gradi. Dopodomani, domenica 20 gennaio, una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale, favorisce condizioni di nuvolosità variabile sulla Liguria, con passaggi di nubi stratiformi e addensamenti sui rilievi alternati a temporanee schiarite. Non si escludono locali sporadici e deboli piovaschi, venti in prevalenza settentrionali, deboli a Levante, moderati sul centro Ponente in rinforzo in serata. Mare poco mosso, temperature minime in diminuzione, lungo la costa intorno 3-4 gradi, nelle zone interne tra meno 4 e meno 2 gradi. Massime stazionare, lungo la costa intorno 10-11 gradi, nelle zone interne tra 6 e 9 gradi. Continuate a seguire gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti!